Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andremo a trattare di un libro che ho letto. Un libro che ho letto e che mi ha deluso, stranamente. Sto parlando di Origin, l'ultima fatica di Dan Brown, che appunto, come ho appena detto, è stata una delusione. Ma una delusione nel senso vero e proprio del termine, ovvero che io mi aspettavo certe cose, avevo delle aspettative, e queste aspettative sono state completamente distrutte, sono state completamente deluse. Origin è il quinto volume della saga che vede come protagonista Robert Langdon, ovvero il famoso professore universitario esperto di simbologia. Vi dico già che questo video non conterrà spoiler, al massimo ne farò qualcuno ma soltanto alla fine del video, quindi vi avvertirò con largo anticipo. Le uniche cose che andrò a dire saranno molto generiche riguardanti proprio la sinossi generale della trama e che si possono anche trovare sulla copertina del libro stesso. Dunque, tutta la storia del libro gira attorno a questa innovativa scoperta scientifica che è stato fatto da un futurologo, da un esperto, un grande esperto di informatica, di nome Edmund Kirsch. Però non si sa subito in cosa consista questa scoperta. Si sa soltanto che andrà potenzialmente a rivoluzionare tutto quanto, perché tecnicamente dovrebbe andare a rispondere alle due più grandi domande che l'essere umano come specie si pone fin da sempre, ovvero da dove veniamo e dove andiamo. Essendo che Robert Langdon e Kirsch sono ottimi amici di lunga data, perché Kirsch era stato un suo studente, viene ovviamente invitato a questa grandissima presentazione al Museo Guggenheim di Bilbao, dove appunto Kirsch farà questa rivelazione all'intero mondo. Si crea un incredibile interesse mediatico per questa scoperta, perché Kirsch è appunto un po' visto come è sì uno scienziato, ma è molto un VIP anche. Una persona molto alla moda, che sta sempre nelle cerchie più influenti del mondo, che conosce un sacco di persone importanti, e quindi ci sono non solo scienziati invitati a questa appunto rivelazione, ma anche un sacco di star televisive, scrittori, giornalisti, tutte le persone più importanti del mondo. Ma poco prima che questa scoperta venga rilasciata davanti ad un pubblico che conta milioni di spettatori, la serata sfocia nel caos. Sfocia nel caos perché qualcuno vuole impedire che questa appunto scoperta scientifica venga resa nota. E ovviamente poi tutta la trama si incentra su Robert Langdon che deve scoprire un po' il mistero dietro a questa scoperta scientifica. Chi è stato a far sfociare la serata nel caos? Perché soprattutto questa cosa è successa? E soprattutto che fine ha fatto? Lui dovrà cercare di ritrovare, per così dire, questa scoperta scientifica che rischia di non essere mai più pubblicata, rischiando così di perdere un incredibile patrimonio scientifico. Perché questa scoperta scientifica viene addirittura paragonata ai modelli copernicani. Ovviamente assistito dalla solita gnocca di turno. In questo caso, Ambra Vidal, questa donna incredibilmente bella e attraente che è la direttrice del Museo Guggenheim. E fin qui va bene. È la promessa di tutti i romanzi di Langdon. Ovvero, c'è un mistero riguardante scienza e religione, c'è un antagonista che come al solito fa parte o meno di qualche setta strana segreta che cerca di mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti e Robert Landon che, avvalendosi appunto di una controparte di un personaggio femminile che lo accompagna, deve riuscire a svolgere, deve riuscire a risolvere questo mistero. E molti fin qui diranno ok, quindi è la solita solfe, quello che abbiamo sempre visto. No, magari, perché questo è questo che io voglio dai libri di Robert Landon, perché è quello a cui ormai mi sono abituato. Quello che per me è stata la più grande mancanza in questo libro, in questa storia, era proprio l'assenza di tutti quei misteri religiosi, di quei misteri iconografici che hanno sempre fatto da padrone ai libri di Dan Brown quando riguardavano Robert Landon. Perché i misteri religiosi, i misteri dell'arte religiosa e tutte queste cose che si ricollegavano ai vari dogmi per me sono sempre state la cosa più interessante, la cosa che più mi ha affascinato in assoluto dei romanzi di Dan Brown. Ma soprattutto, appunto, come dicevo, è quello a cui ero stato abituato ed era quello che mi aspettavo anche da questo libro. Soprattutto perché, ma vabbè, questo in realtà lo attribuisco un po' più come errore all'edizione italiana, c'è un quadro di Michelangelo in copertina. Se io vedo un cazzo di quadro di Michelangelo in copertina, mi aspetto qualcosa che abbia a che fare con l'arte e soprattutto con Michelangelo. Ovviamente di Michelangelo non c'è neanche l'ombra in questo libro. E vabbè, capisco il perché di Michelangelo, del perché del giudizio universale, perché appunto, come vi ho spiegato, la trama gira attorno a questo mistero del dove andiamo e da dove veniamo. E quindi ovviamente hanno voluto mettere questo quadro molto rappresentativo. E va bene, questa non è tanto una critica a Dan Brown stesso quanto all'edizione italiana. Il problema maggiore, che forse non è neanche un problema, ma io ovviamente sto parlando dal mio punto di vista, è che questa storia si incentra molto di più sull'arte moderna. L'artista protagonista di questa storia è Gaudí, perché la storia è ambientata in Spagna, infatti si svolge tra Bilbao e Barcellona principalmente, e inoltre Kirsch, appunto, il personaggio di Kirsch, era terribilmente affascinato da Gaudí, lo adorava. Ora, non sto dicendo che Gaudí sia un brutto artista, anzi, per carità, è stato un artista incredibilmente rivoluzionario. Ed è proprio per questo che Gaudí è il personaggio, è il protagonista principale dal punto di vista artistico di questa storia. Perché appunto tutta questa storia di Origin si incentra principalmente nello scontro tra la fede e la scienza. E Gaudí un po' fa da ponte fra le due cose, perché Gaudí è stato molto rivoluzionario. Basti pensare anche soltanto alla Sagrada Famiglia, appunto, alla chiesa di Barcellona, che è incredibile, è unica nel suo genere, perché mantiene nel suo stile architettonico, presenta un sacco di elementi naturalistici, di natura. Non so in quanti altri edifici religiosi ci siano enormi rane e lucertole che scalano i muri, per dire. Il problema è che appunto da Gaudí io non è che mi posso aspettare tanti misteri sull'arte e sulla religione come potrebbe essere stato appunto per Michelangelo, per dirne uno. Ed è stato questo il mio problema appunto, l'assenza dei misteri religiosi che così tanto io amavo. E ok, è evidente che Dan Brown non abbia voluto perseguire questa strada in questo romanzo, perché appunto, come vi ho spiegato, si incentra molto di più sulla scienza. Ma allora, perché mettere Robert Landon come protagonista? Robert Landon aveva senso metterlo negli altri libri, perché lui appunto era un esperto di arte, era un esperto di simbologia e di tutte queste cose qui, e appunto noi vedevamo le sue abilità all'opera. In questo libro, Robert Landon mi è sembrato terribilmente sprecato. Erano veramente pochi i momenti in cui lui effettivamente applicava la sua conoscenza. Per lo più era soltanto un burattino che doveva correre da una parte all'altra cercando di capirci qualcosa. Ed è qui che appunto dico, perché metti Robert Landon come protagonista? Dan Brown ha scritto anche altri libri che non avevano come protagonista Robert Landon. Libri belli, che a me sono piaciuti peraltro. Anzi, giusto per vostra informazione, Dan Brown è l'unico autore di cui io possiede tutti i libri. Cioè li ho letti tutti quanti, perché non sono così tanti, sono 7-8. La storia di Crypto, per esempio, o Digital Fortress in inglese, come lo volete chiamare, si incentrava tantissimo su un super computer, sulla scienza, sull'informatica, e non aveva come protagonista Robert Landon, perché non penso neanche l'avesse inventato ai tempi. Eppure funzionava benissimo, e per questo che io dico, perché Robert Landon? Secondo me sarebbe bastato anche mettere un altro personaggio, e in quel caso questo romanzo mi sarebbe anche piaciuto. Perché non è un brutto romanzo, anzi, soprattutto verso la fine, un po' si riprende, e questo mistero sulla religione, sulla scienza, e tutto questo mistero che alleggia attorno a questa scoperta, sono cose molto interessanti. Ma perché Robert Landon? Perché mi metti questo personaggio da cui io mi aspetto come lettore, di vedere un sacco di misteri religiosi, che poi però non compaiono praticamente mai. Perché appunto, come dicevo, per il resto, il romanzo non è che mi sia dispiaciuto così tanto. Sicuramente fra i cinque di Landon è quello che mi è piaciuto di meno, per quello che vi ho appena detto, anche perché un po' è sembrato sottotono. Per fortuna, almeno dal mio punto di vista, questo concetto del mistero che alleggia a questa scoperta, che permia per tutto il libro, riesce più o meno a mantenersi a galla, riesce a mantenere le tue aspettative. Almeno è riuscito a mantenere le mie. Perché se anche questa cosa alla fine si sarebbe rivelata disastrosa, sarebbe stata una catastrofe totale di libro. E questo è il mio problema. Io non riesco a capire se questo sia un romanzo bello o brutto. Perché oggettivamente è un bel romanzo. Credo che però la ragione per cui a me non sia piaciuto è proprio il fatto che abbia un'impronta molto più moderna, dal punto di vista dell'arte, dell'arte moderna e contemporanea. E io appunto sono sempre stato più un classicista che un modernista. Io sono quello che nelle gallerie d'arte moderna le guardo dicendo ma perché questa cazzo di latina è qui? Poi in realtà ovviamente capisco il senso dietro l'arte, ci arrivo dopo un po', però ho sempre preferito una frescorrina scimentale oppure una scultura classicista. Poi per quel che riguarda la struttura, secondo me questa volta Dan Brown ha inserito un po' troppo, di personaggi. Perché va bene, i suoi romanzi sono sempre stati strutturati da più punti di vista. Un po' come sempre c'è il punto di vista di Robert Landon, quello della sua controparte femminile, quello dell'antagonista, quello delle autorità o per dire quelli, la polizia o comunque le autorità locali che stanno investigando il caso che ci sono sempre. Qua però ci sono veramente un sacco di personaggi, alcuni di quali secondo me sarebbero potuti essere tagliati via. Allora non è un problema creare una storia che ha tanti punti di vista e vederli tutti quanti. Il problema è che ovviamente in questa storia Robert Landon è molto più caratterizzato, è una storia molto più centralizzata rispetto a tutti gli altri. Gli altri sono macchiette in confronto. Quindi quando tu stai leggendo, questo è sempre stato un po' uno dei miei problemi con la gran parte dei libri di Dan Brown, che io sto leggendo il capitolo di Robert Landon e poi giro pagina e ne arriva un altro, di un altro personaggio. Io dico, che palle, voglio finire per tornare a Robert Landon, perché quei personaggi non sono mai abbastanza caratterizzati, non hanno mai abbastanza... Forse tranne l'antagonista, che è di quello che mi va bene leggere la storia e sapere anche il suo punto di vista, tutti gli altri me ne frega relativamente poco. La loro storia mi sembra molto meno interessante rispetto a quella del protagonista principale. Quindi secondo me o me li sviluppi molto di più e cerchi di rendermi anche la loro storia un po' più interessante e non così veloce di poche pagine, o le togli proprio. Ed è proprio racchiudendola al concetto di protagonista che posso muovere la mia critica più grande. Robert Landon non è abbastanza il protagonista di questa storia. Sembra davvero che lui sia un personaggio capitato lì totalmente a caso, che poi viene continuamente sballottolato a destra a sinistra cercando di seguire il corso degli eventi. Che ripeto, va bene, perché è quello che succede sempre nei romanzi di Landon. Però un conto è se lui si ritrova al Vaticano circondato da tutte queste opere d'arte che lui conosce bene e allora si trova appunto nel suo ambiente e ne fa da padrone. Un conto è se lui si trova in una situazione che gli è totalmente avversa. E questa è una cosa che lui dice chiaramente. Cioè, Robert, vedendo il punto di vista di Landon, tu capisci che un sacco di volte lui dice ma io veramente non è che le capisco molto queste cose di arte moderna. Ed è questo il fatto. Allora, io capisco, Dan Brown, capisco che lui probabilmente, proprio per quello che ho detto all'inizio, sul fatto che tutti i romanzi di Robert Landon siano uguali, che lui forse abbia voluto, abbia voluto provare ad andare in una direzione diversa e fare qualcosa di nuovo. Ma, secondo me, dal mio punto di vista, non è sempre necessaria una cosa. Perché se io ti leggo i tuoi romanzi e mi piacciono per una ragione, allora io voglio continuare a leggerli per la stessa ragione. A me sarebbe nato benissimo un altro romanzo con sempre la stessa solfa, la stessa trama, ma con nuovi misteri religiosi. Perché è quello per cui io lecco Robert Landon. Inferno a me era piaciuto da impazzire proprio perché c'era tutta questa arte che riguardava Dante, che riguardava Firenze, che appunto poi, essendo che abito in Italia, me la sentivo anche più vicina a me, ovviamente. Anche lo stesso simbolo perduto che tantissimi hanno criticato e che effettivamente era un po' sottotono. A me era piaciuto perché trattava dei massoni, della massoneria, di questi grandissimi misteri che a me affascinano tantissimo. E qui qual è il grande mistero? È lo scontro tra la religione e la fede. Che va bene, ma non per Robert Landon. Creami un altro personaggio. E direi che con questo posso anche concludere un po' questa, non la definirei una recensione, ma la mia opinione, un po' questo mio sfogo su questo origin che appunto purtroppo mi ha abbastanza deluso. Non è un libro tragico, non è disastroso, me lo sono comunque goduto. Cioè l'ho letto con piacere, non era lì che dicevo che palle voglio arrivare alla fine. Anzi, soprattutto nella seconda metà, quando la storia appunto entrava un po' più nel vivo dell'azione, tutto era un continuo correre, mi aveva tenuto col fiato sospeso, questo sì. Però comunque mancava quella cosa, mancava quella cosa che io mi aspettavo. Voglio inoltre soffermarmi su un ultimo piccolo dettaglio che alcuni potrebbero considerare spoiler, quindi vi avverto, perché è una cosa che avviene a fine libro. È un concetto, non andrò a dire nel dettaglio specifico di cosa si tratta. Chi avrà letto il libro capirà. Come dicevo, tutto il libro si basa su questo dibattito tra scienza e religione, su sugli ateisti e sui creazionisti, su quelli che pensano che appunto ci siamo evoluti dalle scimmie, che tutta ci sia una spiegazione scientifica dietro all'origine dell'uomo e quelli che pensano che siamo derivati da Adamo e Deva. Per quanto il libro, ovviamente, per come ci si potrebbe aspettare tranquillamente nel 2017, penda di più dalla parte della scienza, perché si basa su una scoperta scientifica, i due rapporti bene o male riescono a mantenersi equi. Nel senso che per quanto il personaggio di Kirsch, che appunto è un futurologo, è uno scienziato, cerchi sempre di abbissare la religione, ci sono altri personaggi che nel corso del libro cercano di tenertela alta su un piano equo. E questa è una cosa che mi ha fatto tantissimo piacere, perché è quello che secondo me è giusto. E questa cosa, bene o male, riesce a mantenersi per tutto il libro, fino alla fine, e per quanto si discuta di questa scoperta scientifica incredibile, la religione riesce comunque più o meno a tenersi a galla con i suoi soliti, come dire, con la sua solita filosofia. E poi alla fine, porca miseria, viene detta un'unica frase, ma è proprio un'unica frase, che ti fa cadere completamente la religione, perché attribuisce alla religione il ruolo di fanatismo. E questa secondo me è una cosa che poteva tranquillamente essere risparmiata. Quell'ultima frase, se non veniva detta, ti manteneva le due cose bene o male su un piano equo, che secondo me sarebbe stato un finale più degno. E non dico sta cosa perché io sia religioso, per carità, sono un ateo convinto, ma perché secondo me sarebbe stata una cosa migliore. Secondo me lasciare le cose in maniera equa è sempre la scelta migliore. E non sto dicendo questo perché dico adesso le comunità religiose si saranno offese. No, non me ne frega un cato. Sto dicendo che quell'ultima frase semplicemente era superflua. Era una cosa che davvero poteva essere facilmente evitata. Io personalmente l'avrei evitata. E niente, direi che con quest'ultimo sfogo posso anche concludere questo video. Ovviamente voglio sapere tantissimo la vostra opinione. Soprattutto se siete credenti. Questa è una cosa che io mi sono posto per tutta la durata del libro. Ho detto come leggere, quali saranno le diverse interpretazioni dal punto di vista di un ateo, cioè il mio, ma dal punto di vista di uno che legge il libro ed è credente. E che si vede un po' la fede minacciata da tutte queste cose. Dunque sì, vi invito ovviamente a dirmi il vostro parere se avete già letto il libro. So che è uscito da pochissimo quindi magari non tutti di voi ancora l'avranno recuperato. È comunque un libro che io consiglio perché è molto interessante. Solo non aspettatevi appunto come me il solito Langdon. Ma per ora da me è tutto. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.